Sono Anthony e benvenuti in questo nuovissimo video di Brawl Stars Oggi vi farò vedere come avrete al nuovo Brawler Eh no, a Collette Però so che non posso aprire una cassa, una mega cassa Allora, prima dovete fare, dovete mettere il vostro, per avere un leggendario volevo dire scusate Il vostro nome giallo Secondo, cliccate su qualunque Brawler che volete, tipo così 3000 o forse 50 volte Aspettiamo un altro po', così Massimo, è un altro, boom Bene, poi dobbiamo fare così E dovete cliccare 10 volte il Brawler che volete 1, 2, 3, ma lento 4, 5, se non funziona 7, 8, 9, 10 Quindi aspettate un attimo che faccia una bella battaglia, ok? Ecco ragazzi, ecco ragazzi, ho fatto la battaglia, sono arrivato al primo posto E quindi continuiamo, allora Dove erano domande 10 volte abbiamo cliccato a pro, una battaglia dovevamo fare Poi andate qua e mettete questo codice Ehm, perché faccio questo, voglio fare questo Allora, poi provate il Brawler E' stata per 25 o di più di secondi Non uccidete nessuno, se no non me lo dà Guardate sotto intorno, che cosa fanno loro Guarda Allora Continuate Poi andate al centro e girate per un secondo 1 Mentre a girare lasciate Ecco Poi andate qua E entrate questo Questo codice I Box Corvo Deve essere per in inglese scritto Già ve lo posto Per darvi il tempo di vederlo bene 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 Avete visto bene? Io spero di sì Ecco Certo che Piper Sembra che sta dormendo Poi Dovete In un Brawler Che volete Poi dovete Fare così Guardare e toccare tutto Tutto questo Quello che vedete Questo che vedete dovete toccare Questo, 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 questo e il resto Ecco Ecco ho toccato tutto Anche i gadget E la star power Tutto e due Ed è tutto ragazzi Speri Che voi avrete una bella Leggendaria E credo che vi è piaciuto il video Se vi è piaciuto lasciate un like E iscrivetevi al mio canale Quindi vi dico Ciao Ciao Scusate un attimo che volevo Far vedere qualcosa ancora Guardate questo Quanto è un anno fa E perché l'ho fatto Così guardate Vedete quanto può fare Piper prima Sì lo so che non è per questa ancora Guardate Quindi vi dico ora Ciao Ciao